Benvenuti al Summit 7 Global Family Office Investment Summit qui in Dubai, o set by Ritossa Family Office. Qui siamo con Giuseppe Ambrosio. Giuseppe, grazie per noi. Grazie, è un piacere, come sempre. Quali sono le vostre impressioni e le vostre esperienze su questo, dopo il successo di Monte Carlo? Come ho detto all'inizio, Anthony riuscì a riuscire la barra una volta. Quindi ho detto all'inizio che in Monaco sarà molto difficile da fare meglio di questo. Ma abbiamo già lavorato su questo. Quindi, tu come moderatore a la sessione di Panache dedicata alla famiglia. Quali sono i principi problemi di oggi? Beh, ogni famiglia ha dei grandi problemi. La maggior parte è la governanza e la transizione per la prossima generazione. Quindi, ogni famiglia, depending sulle culture, sulle background, si tratta di questo. E oggi, sul panel, abbiamo la possibilità di ascoltare qualcuno dal Mio L'Ottore per dire cosa pensava di fare questo. E anche altri famigliari, dall'India e dall'U.S., per esempio. Ci sono alcuni lezioni che devono essere appena uscita? Sì, penso che ci sono sempre qualcosa di appena uscita. E, per esempio, abbiamo ascoltato da Hadi, dal Reino Barane, che quello che fa con i bambini è molto simile a quello che ha fatto con i bambini. Quindi, si tratta di una settimana settimana ogni settimana con tutti i membri di famiglia. E così è come si tratta la famiglia. E così è come si tratta la liderazione per la prossima generazione. E si tratta di passare i valori per la prossima generazione. Quindi, abbiamo ascoltato sulle princese dell'India, su tutte le strutture e le problematiche su questa trasformazione per la prossima generazione. Ma tutti hanno le loro visioni. Quindi abbiamo ascoltato come ogni famiglia propria risolvere questo problema, da diversi angoli. Giuseppe, come sempre, il tuo round table è stato uno dei più grandi attori. Quindi, parlate di Monaco e di come farlo accadere in Monaco. Vi raccontate con noi il tema principale. Sì. «Mare accadere in Monaco» è un seminario che ho avuto un po' anni fa. E' stato molto successo perché faccio questo a un'università, faccio questo all'interno, a un'intervista, e faccio questo anche per i bambini, e per l'associazione. Il tema è come diventare un residente in Monaco, come fare un business in Monaco, e come fare la maggioranza del framework Monaco. E anche, parlate del settore di offizioni singoli e multifamili. Abbiamo parlato di Monaco e possiamo dire che la bar si stia più elevato in ogni edizione. Cosa possiamo aspettare per la prossima edizione Monte Carlo? Beh, sarà difficile, come ho detto, perché Anthony ha riuscito la barra. abbiamo lavorato durante i due mesi, e prima di settembre ci sono molte cose che abbiamo avuto nella nostra agenda. Ma come abbiamo fatto l'anno scorso, il mio obiettivo è di farlo come istituzionale possibile. Grazie a tutti per partecipare e attivatevi il summit. Grazie a tutti per l'intervista. Ciao, ciao. 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 Ciao.